Oggi è lunedì 4 aprile, su segnalazione di un privato veniamo a verificare un attimo i lavori che sono svolti qui nel canalino di Guara e vediamo che come ci ha detto appunto il cittadino ci sono numerosi scarichi che versano un liquido non ben identificabile, l'odore apparentemente è quello delle acque grigie e difficilmente possono essere acque di pioggio secondo a pioggio visto che è oltre 10 giorni che sappiamo che non piove, adesso andiamo a vedere anche l'altro scarico, gli scarichi qui su questa intorno alla cittadina di Guara, appunto qua dove si stanno svolgendo i lavori sono almeno 4 giorni,